Ultimo appuntamento per les kitchen Italia, stasera, venerdì 21 dicembre 2018. Quattro i finalisti che saranno pronti a sfidarsi con tutte le armi a loro disposizione, per vincere lo show cooking di Sky 1 La finalissima di questa quinta e tormentata stagione, verrà a tornare in scena per l'ultima volta anche Carlo Cracco Giudici ospiti della puntata conclusiva saranno gli chef Giannico Alleno e Andrea Scaminada, 9 stelle Michelin in due, che avranno anche il compito di aiutare, con i loro pregiati consigli, tutti i concorrenti ancora in gara Per valorizzare nel migliore dei modi, i piatti dell'ultimo servizio e anche di aiutare Cracco a stabilire chi avrà meglio figurato, fra i due finalisti, nel corso del più importante servizio della gara Saranno in quattro contendersi il solo posto libero, quello di Executive Chef presso uno dei ristoranti del J W Marriott Venice Resort e Spa sull'Isola delle Rosi della Laguna di Venezia. Slegate per sempre le squadre, si preannuncia caldissima la sfida fra i finalisti di Hell's Kitchen, il cooking show più crudele della televisione Ancora in gara, Nicola, Maila, Michela e Ginevra. Sfide infuocate.I quattro finalisti di Hell's Kitchen Italia 2018 sono attesi da sfide davvero infuocate nella finalissima in onda questa sera Dopo aver affrontato un percorso ricco di ostacoli che, tuttavia, con coraggio e determinazione sono riusciti a superare, Nicola, Maila, Michela e Ginevra, per poter portare a casa l'ambito premio che è un posto come Executive Chef presso uno dei ristoranti del J W Marriott Venice Resort e Spa sull'Isola delle Rosi della Laguna di Venezia, dovranno superare le trappole che troveranno lungo la strada che porta alla vittoria finale A supervisionare tutto ci sarà l'integerrimo Carlo Cracco che, questa sera più che mai, non perdonerà nulla ai quattro finalisti che dovranno svolgere un lavoro impeccabile per vincere Sarà, dunque, una serata emozionante non solo per i quattro finalisti, ma anche per il pubblico che, dopo aver seguito la loro avventura, non vedono l'ora di scoprire chi trionferà La finalissima appunto venerdì 21 dicembre, dalle 21,15, su Sky 1 e su Sky On Demand, va in onda l'attesissima finalissima della quinta edizione di Yes Kitchen Italia Il talent show culinario che mette alla prova dei cuochi professionisti che, puntata dopo puntata, devono superare lo scoglio di Carlo Cracco, giudice antegerrimo e facilmente irascibile della cucina più infuocata della televisione italiana Questa sera, i quattro concorrenti che sono riusciti a conquistare la finale si sfideranno in una puntata in cui non mancheranno le emozioni, i colpi di scena e le grandi sfide Per riuscire a portare a casa la vittoria, i concorrenti dovranno dimostrare di essere in grado di saper gestire la cucina di un ristorante anche di fronte alle più grandi difficoltà Cosa accadrà, dunque? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.Le anticipazioni della finale Quattro concorrenti si sfidano in finale per vincere il posto di Executive Chef presso uno dei ristoranti del J W Marriott Venice Resort e Spa sull'Isola delle Rosi della Laguna di Venezia. La finale di Hell's Kitchen sarà una sfida infuocata tra i quattro finalisti che sono Nicola, Maila, Michela e Ginevra Giudici ospiti della finalissima saranno gli chef Giannico Alleno e Andrea Scaminada, 9 stelle Michelin in due, che avranno il compito di aiutare i concorrenti nell'arduo compito di conquistare Carlo Cracco che, al termine della puntata, sceglierà chi sarà meritevole di vittoria Cracco sarà aiutato dai due su Chef Sibyl Carbone, finalista della prima edizione del programma, e Mirco Ronzoni, vincitore della seconda, mentre il metr Luca Lucchino Cinacchi sarà ancora una volta il responsabile della gestione della sala I finalisti.4 Finalisti per un solo premio. A sfidarsi, questa sera, saranno Nicola, Maila, Michela e Ginevra che, dopo aver superato una ferrea selezione, sono riusciti a sbaragliare la concorrenza degli altri chef arrivando a conquistare un posto in finale Questa sera saranno tutti gli uni contro gli altri e potranno contare unicamente sulle proprie abilità per conquistare non solo la vittoria, ma soprattutto un posto di prestigio Puntata dopo puntata sanno cosa cerca Carlo Cracco nei propri chef, riusciranno a conquistare la sua fiducia portando a casa l'importante traguardo Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like